è tempo di scoprire sì che facciamo adesso adesso scapiamo e li sistemiamo in altro modo ok poi fai vedere come li sistemiamo stanno crescendo vero? perchè li scopriamo? adesso cacciano i filamenti lunghi diciamo i filamenti lunghi e come li vinceremo perchè poi si attaccano nella rete eh si e fanno necchia pomica ho capito quindi prima che nascano cioè crescano quei filamenti lunghi dei piselli che poi praticamente si attorciglierebbero nella rete e renderebbero difficoltoso questa operazione no invece adesso li scopriamo? li scopriamo ok visto che sono cresciuti adesso sono pronti per crescere senza protezione della rete e adesso poi dopo che facciamo mettiamo delle mazze vicino intorno alle quali praticamente i filamenti si attorciglieranno ho capito fammi vedere il filamento di cui parli ah questi qua i piccolini ma questo si allunga da qua e esce da qua il filamento e quello qua vedo? si questo attacco vicino alla rete e non riuscivano più a togliere la rete e non lo togli più e non lo togli più invece adesso con questi rami di nocciole che avevamo utilizzato per fare il tunnel li spezzi e li utilizzi per fare praticamente per mettere questi appigli per questi filamenti di piselli e poi dopo la rete che fai? la mettiamo in direzione a questa parte qua non fa niente che questi piselli sono nati uno vicino all'altro? eh che bello è pazienza o meglio lo togliamo dopo o peggioro lo togliamo ah vediamo quello che è più forte lo lasciamo e il peggioro lo togliamo sì sì quell'altra linea di piselli tu già li hai lavorati in questa maniera? sì sì l'hai fatto così andiamo a vedere vado a vedere e contemporaneamente che fai? rincalzi? rincalzi un poco i piselli la prima volta poi ci fai un altro rincalzato quanto vanno più alti questa è la prima rincalzatura? sì poi oltre a questo mezzo si può usare un rincalzato quanto vanno più alti e poi c'è un rincalzato quanto vanno più alti che vanno più alti e poi c'è un rincalzato quanto vanno più alti poi oltre a questo mezzo rametto di nocciole dobbiamo mettere queste frasche diciamo perché diciamo sono più frastagliate e in grado di si aggrappano i piselli si aggrappano vicino a queste frasche quando crescono a le frasche sono derivanti dalla potatura dei mandarini quindi qua hai messo anche le frasche